A compiere l'orrendo delitto scoperto in via Fanella, dove sono stati trovati lunedì scorso i corpi esanimi di una coppia di anziani, di Giuseppe Ricci, conosciuto da tutti come Giorgio, di 75 anni, e della moglie Luisa Marconi, di anni 70, sarebbe stato il figlio Luca, di 49 anni, metalmeccanico. A questa conclusione sarebbero giunti gli inquirenti dopo ben 16 ore di interrogatorio, nel corso del quale, dapprima, l'uomo avrebbe negato ogni addebito, poi avrebbe incominciato a cedere, inframmezzando le proprie ammissioni ai non ricordo. La stretta degli uomini della polizia è stata comunque costante e sempre più stringente, fin quando i funzionari della squadra mobile di Pesaro avrebbero assunto tutti gli elementi necessari per accusare il sospettato di omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà. Tutto si sarebbe consumato nella notte tra domenica e lunedì. Luca Ricci, che condivideva la sua residenza di una palazzina di via Fanella con i suoi genitori, una palazzina divisa in due appartamenti, uno al piano di sopra, dove abitava il figlio assaltuariamente con i suoi due figli, dato che, essendosi separato dalla moglie, quest'ultima era andata a vivere a Fossombrone, e l'altro appartamento al piano terra, dove risiedevano i genitori. Ebbene, Luca è sceso a notte fonda per misurare la pressione alla madre. Il giorno che doveva nascere sarebbe stato un giorno non facile da vivere per la coppia di anziani, che degli a poco sarebbero stati costretti ad abbandonare la loro casa. Era infatti in programma un incontro con il nuovo proprietario di questa, essendo l'abitazione stata messa all'asta perché era stata data in garanzia di un debito contratto dal figlio non soluto. Quest'ultimo aveva in animo di aprire una bottega artigiana, che gli avrebbe consentito di fare un altro mestiere, invece di proseguire la sua attività come metalmeccanico alla profliglass. I genitori lo avrebbero aiutato in tutti i modi, ma il figlio non era ancora contento e avrebbe preteso altro denaro. In quella notte deve essere scoppiata un'altra lite, sfociata purtroppo nell'atroce delitto. La madre è stata strangolata, si pensa con una cordicella, mentre il padre è stato colpito alla testa con un martello, che è stato ritrovato nel pomeriggio successivo dagli inquirenti, gettato in un pozzetto. Compiuto il duplice omicidio, Luca Ricci sarebbe tornato al piano di sopra, avrebbe atteso il giorno e, come se nulla fosse accaduto, avrebbe accompagnato il figlio alla scuola agraria di Villa Caprile a Pesaro, dove il ragazzo stava seguendo un corso di recupero. Tornato a casa, avrebbe chiamato la polizia, affermando di avere scoperto l'assassinio dei propri genitori, del quale aveva ripetutamente detto di essere estraneo. Ma le prime indagini, i riscontri della polizia scientifica, l'esito dell'interrogatorio, avrebbero dimostrato che le cose non stavano proprio così.